Ciao a tutti, eccomi qua Leggerete nel titolo probabilmente Una cosa tipo urgente, muovetevi Leggete, guardate sto video subito Non sto morendo, è tutto ok A meno che io sappia, non ho niente di grave Soltanto che volevo che vedeste questo video Velocemente, perché sta per partire Un'iniziativa, partirà fra un paio di giorni Sabato, oggi è giovedì Spero di riuscire a pubblicarlo subito Ora appena, mi ci metto subito immediatamente Spero di non fare troppe errori così Faccio anche un po' veloce E questa iniziativa parte sul gruppo E non è una mia idea, secondo me È geniale, anzi ringrazio Tantissimo la ragazza a cui è venuta L'idea e che si sta prendendo la briga Di svilupparla, perché secondo me È anche un bello sbattimento, soprattutto per lei Io cercherò di aiutarla, anzi Elena Fammi sapere in che modo posso aiutarti Veramente via messaggio In qualunque modo Ti aiuto, mi sembra il minimo Elena appunto Ha avuto questa, non dico il tuo cognome Per una questione di privacy Tanto se andate sul gruppo capite subito com'è Chi è? Perché è lei che sta gestendo questa cosa Ha avuto questa idea geniale Di preparare un gioco per noi Il gioco Ha la finalità di Stimolarci a dimagrire Prendendo il tutto Chiaramente con ironia Perché nel senso Se no che palle Fare la dieta Scusate la parolaccia Vabbè Se no che palle Veramente E quindi Con un po' di leggerezza Ha pensato di fare Un gioco Immaginatevelo come il gioco dell'oca Quindi Con un percorso a caselle Da fare E ci divide In gruppi Per indice di massa corporea Che dovrete calcolare Vabbè Ora vi spiego Per indice di massa corporea E ogni volta Che si perde Un tot di chili O di centimetri Sono due giorni diversi Quindi Due circuiti Totalmente diversi Si passa avanti Di una casella Ovviamente Ci saranno Dei premi Ora Non aspettatevi Chissà che Non è che ora Spunto con la paletta Naked Pure io Perché non ce l'ho manco io Figurati Vabbè Però Posso pensare Io Posso pensare A dei premi Insomma L'importante Per noi È perdere peso Almeno per me L'importante È perdere peso Quindi sinceramente I premi sono secondari È giusto Un gioco È per divertirsi E Cosa serve Per partecipare Innanzitutto Dovete andare sul gruppo E Iscrivervi Non perché io voglia Tanti iscritti sul gruppo A me non me ne frega Non mi interessa neanche Che siete iscritti qui al canale Cioè Tanto a me non è che Mi viene in tasca nulla Sono contenta Chiaro Però Non mi viene in tasca nulla Dovete iscrivervi nel gruppo Perché è un gruppo Chiuso Per questo E Quindi Essenzialmente È dell'unico modo Fare Il gruppo chiuso È stato fatto Perché è l'unico modo Per evitare che tutti Leggano il vostro peso La vostra tezza Quanto avete grosso il braccio Insomma Leggano le vostre discussioni Quindi ho dovuto per forza Farlo chiuso Io all'inizio L'avevo fatto aperto Quindi non è proprio Per l'iscrizione Perché è l'unico modo Quindi Entrate nel gruppo Vi metto il link Nell'info box Questa volta lo metto Giuro Entrate nel gruppo E E lì dovreste Soltanto Dare a Elena La vostra adesione A questo gioco Entro venerdì O sabato Mattina In estremi Sabato Anzi sarebbe Entro venerdì Mi dispiace Non aver potuto Fare il video prima Però Sono stata super impegnata In questa settimana Un casino fra università E qualche problema Insomma Vabbè E Dovete Aderire Se volete aderire Dovete dare a Elena Il vostro peso La vostra altezza L'indice di massa corporea Che potete C'è chi lo chiama IMC Indice massa corporea Oppure dall'inglese Viene fuori BMI Come si calcola Ve l'ho già detto Comunque ve lo ripeto Le metto la formula Da qualche parte Tipo qui Peso In Kilogrammi Fratto Altezza La seconda L'altezza Va fatta in metri Va messa in metri Insomma Vi metto la formula Comunque qui Che così fate prima Se non riuscite Potete chiedere aiuto Nel gruppo Non credo che Vi Cioè Sono sicura Che vi aiuteranno Ecco E Chiaramente Ci saranno Ci sarà la squadra Vincitrice O la persona Vincitrice Ora non sappiamo ancora Le regole Io vi metto il regolamento Che ha scritto Elena Qui nell'info box Comunque Insomma Non è ancora partito Quindi se avete qualche idea Se non vi piace qualche regola Si può ancora discutere Chiaramente nel gruppo Non qui sotto Se no vi è nessun casino E Quindi Cosa volevo dire Ah sì Ci sarà una squadra Vincitrice Una persona Vincitrice Cioè quella che ha perso più peso E poi ci saranno Dei premi simpatia Tipo quella che ce l'ha messa tutta Ma non è riuscita a perdere peso Poi ci saranno le pagelle Insomma Ora è soltanto all'inizio Però secondo me Può essere una cosa divertente E Anche il farlo In gruppo Cioè Gioco di squadra Aiuta Verrà calcolato Quante volte alla settimana Facciamo sport Ci saranno le penalità Cioè Chi fa i massaggi dimagranti Chi fa Tutti i trattamenti Dall'estetista Che ne so Chiaramente è penalizzato Perché per lui sarebbe più facile Perdere centimetri E Insomma Mi sembra una cosa divertente Se volete partecipare Io Elena Tutti gli altri del gruppo Saremo contentissimi Quindi se volete partecipare Forza Venite Perché vi stiamo aspettando E se no partiamo da soli E ci divertiremo un botto Lo stesso Insomma Non è che voglio obbligare nessuno Se non ci avete voglia Di scrivere Peso Altezza Eccetera No problem Ci sentiamo qui Come al solito Nel canale E basta Sono troppo contenta Ringrazio tantissimo Le ragazze del gruppo Perché sono mitiche I ragazzi Se no Claudio Giuseppe Aiuto E Mi ammazzano Ringrazio i ragazzi del gruppo Elena Nel particolare In questo caso Perché Sei una grande Mi è piaciuta un sacco La tua idea E chi vuole partecipare Insomma È il benvenuto Ciao